Il tema del congresso nazionale di ginecologia e ostetricia 2017 è il benessere della donna in ogni fase della vita, dall'adolescenza all'età adulta, dalla maternità alla menopausa, con regole semplici su come vivere in salute grazie a prevenzione, stile di vita sani ed informazioni corrette. Ci sono delle regole di comportamento, la prima è pensare che la prevenzione è la frontiera vera per avere una salute adeguata e per mantenersi in salute e questo noi lo stiamo insegnando, lo possiamo insegnare già con la vaccinazione che va alle adolescenti e quindi è il momento nel quale spieghiamo che la prevenzione è veramente il modo vero di salvaguardare la salute. La seconda regola che direi è non pensare di autocurarsi, non curarsi con i giornali e non curarsi con internet, ma curarsi con degli specialisti adeguati e in Italia li abbiamo, abbiamo centri di riferimento, abbiamo specialisti molto validi. quindi io penso che per la salute femminile si riesce a fare entrare nell'idea che una visita all'anno ginecologica serve non solo all'apparato genitale, ma serve in generale a dire dei piccoli disturbi, dei piccoli fastidi, ad avere regole di comportamento, a mantenere la dieta adeguata, a fare un po' di attività sportiva, credo che quella è la regola che io vorrei dire. Diciamo tutti i giornali, tutto internet sono cose utili, si imparano delle cose ma vanno sempre filtrate, quindi la regola vera è affidarsi a uno specialista che esegua questo. Parliamo di prevenzione oncologica, nelle varie fasi della vita anche questa, anche questa ha cambiata negli anni? Molto, molto migliorata per il papillomavirus, per il cancro al collo dell'utero, noi abbiamo un vaccino, quindi direi che potrebbe essere un problema finito. Sappiamo oggi che avere una familiarità per tumore ovarico e della mammella è un fattore di rischio importante, quindi chi ha persone in famiglia che hanno avuto un tumore dell'ovaio o della mammella deve sottoporsi a dei controlli più stretti. Sappiamo anche che in generale alcune pratiche di vita quotidiana, l'attività sportiva, la dieta, influenzano molto anche il non fumare, influenzano molto anche la possibilità di non contrarre tumori. La terapia ormonale è sicuramente uno dei più grandi falsi miti che abbiamo in ginecologia, nel senso che sia in età riproduttiva sia in menopausa è abbastanza frequente la demonizzazione della terapia ormonale, per cui nella donna in età riproduttiva qualsiasi contraccezione è valida, basta che non sia di tipo ormonale, in menopausa uno si tiene i disturbi, l'importante è che non fa ormoni perché fa aumentare il cancro. Sono falsi miti in entrambi i casi, adesso possiamo dire tranquillamente che una terapia, che è una contraccezione ormonale, può essere assunta da qualsiasi donna in età riproduttiva che sia a basso rischio senza dover fare nessuna indagine preliminare, è chiaro che ci vuole un adeguato counseling con la donna, un'adeguata scelta del tipo di contraccettivo, una valutazione attenta dei fattori di rischio perché la determinazione dei fattori di rischio logicamente può andare a modificare la scelta del contraccettivo, però nelle donne a basso rischio sicuramente la terapia, una contraccezione ormonale può essere eseguita senza nessuna indagine preliminare. Stesso discorso vale per le donne in età climaterica, nelle quali la terapia ormonale sostitutiva rimane la terapia di prima scelta. Abbiamo tutta una serie di altre terapie di tipo non ormonale che possono andare a lenire determinati disturbi a livello locale. Anche qua la necessità di una personalizzazione e di una scelta insieme alla donna del tipo di presidio terapeutico più opportuno. La gravidanza è un momento molto importante nella vita di ogni donna. Vediamo quali sono le cose giuste da fare, quelle che forse ormai sono un po' superate, quindi un vero e falso sulla gravidanza oggi. Beh, innanzitutto è opportuna una valutazione all'inizio della gravidanza o se vogliamo o meglio ancora prima della gravidanza perché è opportuno evidenziare se vi sono degli elementi che facciano suggerire degli esami particolari. Quindi valutare se vi sono dei fattori di rischio specifici, quindi diventa una gravidanza a rischio e come tale avrà un percorso adeguato con anche accertamenti, coinvolgimento di figure professionali con competenze specifiche, oppure se si tratta di una gravidanza a basso rischio o gravidanza fisiologica, la gravidanza cosiddetta normale, in cui vi sono, per le quali vi sono degli suggerimenti, delle linee guida, delle pratiche cliniche condivise che sono ormai ben standardizzate. Quanto riguarda la gravidanza fisiologica, certamente non vi è motivo di non viaggiare, di non fare sport, cioè la gravidanza non è una malattia, quindi si fa la vita che uno aveva sempre fatto, ascoltando anche quello che il nostro corpo ci manda a dire, perché se uno è stanco si riposa, ma certamente non c'è motivo di né mangiare per due, né non fare sport, né stare a letto più del dovuto, quindi queste sono delle regole generali. Sui farmaci certamente è opportuno fare una valutazione prima, tenendo conto che i farmaci dannosi per fortuna sono pochissimi, ma i farmaci già normalmente devono essere prescritti solo se vi è un'indicazione a maggior ragione durante la gravidanza. Controlli, ecografie troppo spesso, troppo poco spesso, anche questo è un dubbio che le mamme hanno. Sì, beh, sull'ecografia certamente c'è e c'è stato un abuso, colpa anche forse di noi medici, che ci siamo lasciati attrarre da questo strumento che a noi fornisce delle indicazioni e alla donna piace vedere, guardare il bambino. Ma credo che dobbiamo riportare l'ecografia a uno strumento di medicina, quindi non è guardare il bambino, forse dobbiamo riportare l'importanza al sentire il bambino dentro la pancia, a dare importanza alla comunicazione mamma-bambino, ma propria, non attraverso uno schermo. Le ecografie indicate sono due, una nel primo trimestre e una nel secondo trimestre, vi è molta discussione se abbiamo senso farne una terza, anche a livello mondiale. Adesso nei nuovi LEA del 2017 sono previste due e la terza solo su un'indicazione specifica. Colgo l'occasione per segnalare una cosa. Molto spesso consideriamo ecografia, cioè un esame ecografico, l'utilizzo dello strumento ecografo appoggiando la sonda sulla pancia, appunto per guardare il battito, per guardare il bambino. Quella non è un'ecografia, quella è semplicemente usare l'ecografia per vedere il battito, anziché sentirlo. L'ecografia in quanto tale richiede una visualizzazione, un referto scritto, eccetera. È essenziale la supplementazione con acido folico, che però va iniziata prima della gravidanza. Torniamo al discorso che ho fatto all'inizio. È importante il più possibile programmare una gravidanza e quindi valutare se vi sono o meno dei fattori di rischio. L'acido folico è consigliato a tutte le donne prima di iniziare la gravidanza, perché l'acido folico ha i suoi effetti se assunto dal momento del concepimento.